Allora, questo evento a noi ci ha colpito tanto, ma precisa dire che non era un pellegrinaggio della parrocchia di San Luca, come è stato riferito su internet, nei giornali, ma è stata una gita privata questa, per quello che noi sappiamo. E siamo qui a pregare anche per loro, perché il Signore possa confortare anche i familiari e aiutare soprattutto quelle che stanno in ospedale, tra cui alcune conoscente pure della nostra comunità, e stiamo pregando per loro.